Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della serie Affitti Brevi in 30 giorni dove vi spieghiamo come da zero in 30 giorni potete entrare in questo meraviglioso business che ha cambiato la vita mia e di tantissime altre persone e oggi parliamo di un tema molto importante, ovvero le piccole città Diamo tutti per scontato giustamente che le grandi città di qualsiasi parte del mondo questo business sia un business molto profittevole Milano, Torino, New York, Parigi, Tokyo, Shanghai dove vogliamo ovviamente se si tratta di una grande città si fanno pacchi di soldi con questo business ma parliamo anche delle piccole città perché erroneamente tante persone pensano che piccola città uguale piccoli guadagni invece no, talvolta nelle piccole città si può guadagnare ancora di più e si fanno affari migliori che nelle grandi città per due motivi, se operiamo in sublocazione, i canoni di locazione magari in città secondari ma comunque con un ottimo richiamo come possono essere Pisa, Lucca, Isernia, Termoli per fare degli esempi completamente a caso ma poi ce ne sono letteralmente a migliaia i canoni di fitto sono molto bassi eppure se andiamo a vedere i prezzi su Airbnb sono ottimi ciò ci permette di fare praticamente ancora più soldi rispetto ad una sublocazione in una grande città cioè investo mille in una delle città più piccole di cui ti ho parlato poco fa e ho un ROI più alto rispetto ad investire gli stessi mille euro in una grande città quindi già questo è un esempio che poi andremo un attimo a snocciolare un po' più nel dettaglio il perché e il secondo esempio è proprio perché magari in queste piccole città non ci sono tanti property manager in generale in Italia ce ne sono pochissimi un mercato ancora in fortissimo sviluppo ma magari a Milano qualcuno lo troviamo ecco a Isernia e property manager ad esempio potrebbero essere due a Lucca saranno cinque ad Asti saranno tre e siccome ce ne sono pochi e quei pochi che ci sono nella maggior parte dei casi non hanno ottenuto formazione non sono certificati Airbnb Academy eccetera 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 possiamo chiedere di più cioè laddove c'è poca offerta il prezzo lo facciamo noi e quindi possiamo magari chiedere un 40% di provvigione alcuni studenti Airbnb Academy sono riusciti a chiudere delle case al 50% chiaro che 50% a Milano è impossibile saresti completamente fuori mercato però in una zona dove i property manager non ci sono e se ci sono sono molto scarsi il mercato lo fai tu e le cifre da richiedere ai proprietari le fai tu hai il coltello dalla parte del manico detto ciò non mi fraintendere non significa che questo business funziona in qualsiasi città d'Italia o del mondo possiamo fare delle ricerche di mercato ovviamente dobbiamo fare delle ricerche di mercato ma per mia esperienza che non è solo la mia di centinaia di proprietà che ho gestito o che gestisco ma è l'esperienza di oltre 4.000 persone nel 99% dei casi e anche nelle città dove tu non pensavi che si potesse guadagnare si può guadagnare poi oh non è che magari a Casal Pusterlengo diventi ricco a gestire immobili sto prendendo un esempio a caso magari a Casal Pusterlengo si guadagna un sacco di soldi però veramente abbiamo avuto evidenze di località dimenticate da Dio con pochissimi abitanti dove la gente fa veramente tanto 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 denaro andiamo a vedere quali sono i punti da tenere in considerazione quando vogliamo capire se in una zona c'è richiesta o meno punto numero 0 non è neanche l'1 è proprio la base e la domanda che ti devi fare è nella città in cui opero o voglio operare nella città in cui vivo o dove voglio andare a vivere esistono strutture ricettive? ovvero esiste già almeno un hotel almeno un bed and breakfast almeno un immobile su Airbnb una fitta camera una qualsiasi struttura ricettiva dove una persona può soggiornare se la risposta è sì beh complimenti hai trovato una zona nella quale operare perché se c'è già una struttura ricettiva e non è fallita quindi esiste da più di un anno significa che evidentemente c'è della richiesta cioè se esiste un hotel ad esempio ed esiste lì da anni o esiste un Airbnb ed esiste da anni eccetera 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 significa che evidentemente guadagna perché nessuno tiene aperta una struttura ricettiva o un qualsiasi tipo di attività per perdere denaro se perdessero denaro avrebbero già chiuso e sarebbero falliti quindi se quella struttura esiste da anni è perché evidentemente c'è richiesta quindi se nella tua città o appunto dove vuoi operare c'è almeno un hotel o un Airbnb o una qualsiasi cosa magari butta anche un occhio alle recensioni per capire insomma da quanto tempo esiste bingo hai trovato una località dove puoi guadagnare il quanto poi lo vedremo successivamente quello era il punto numero zero adesso partiamo dal punto numero uno l'Italia benché tu magari non ci abbia mai fatto caso è una delle mete turistiche più ambite al mondo e turismo non significa solo grandi città non significa solo Roma, Torino, Firenze, Venezia eccetera ma significa anche e forse soprattutto queste piccole località ad esempio ci sono gli appassionati di montagna e quindi andranno in montagna gli appassionati della mountain bike ci sono le località specifiche della mountain bike quelli che amano lo sci di fondo e quindi vanno in quei posti lì insomma ragazzi c'è un turismo incredibile in Italia parliamo di decine di milioni di turisti che quando arrivano da qualche parte dovranno pure dormire quindi ogni singolo turista che ogni tanto vedi nella tua città sappi che sta pagando qualcuno per dormire in quella città nel luogo in cui ti trovi e quel qualcuno potresti essere tu ma per essere tu devi avere delle competenze e per avere delle competenze ovviamente devi formarti da dei professionisti ma sei molto fortunato o fortunata perché sei di fronte al fondatore della più grande accademia di formazione in Europa lato affitti brevi ovvero B&B Academy della quale, e poi proseguiamo con il video trovi una serie di contenuti gratuiti importantissimi qua in descrizione termina il video e non perderteli perché sono delle vere e proprie chicche quindi abbiamo visto che esistono delle località dove esiste comunque turismo di nicchia ma è sempre turismo sono sempre soldi ti basti pensare poi anche solo alle Langhe vicino Alba, in Piemonte dove la gente va a visitare lo stabilimento della Nutella dove la gente va a provare i vini, i formaggi, eccetera o nella zona dell'Emilia Romagna dove c'è la Motor Valley la gente va a vedere le fabbriche di Lamborghini di Ferrari, di Ducati, eccetera, eccetera, eccetera o sempre nella stessa zona vai a mangiare il parmigiano reggiano insomma, ragazzi, c'è un turismo incredibile ve lo posso assicurare anche nelle zone, ci scommetto, dove voi pensavate che non avreste fatto due lire ma ho menzionato principalmente realtà del nord bene, anche al sud ad esempio in Salento la gente va a brere il vino a vedere la costiera amalfitana e chi più ne ha più ne metta e cosa fa una persona che non si può permettere di soggiornare ad esempio a Positano perché è troppo costosa beh, va nel paesino magari a 20 minuti da lì dove costa meno ma dove comunque tu guadagni paccate di soldi perché l'affitto ti costa meno comprare casa ti costa meno ma comunque affitti ai turisti e l'americano di turno paga paccate di soldi parliamo di paesini di 1000-2000 abitanti dove comunque tu puoi affittare a 100-150-200 euro a notte guarda tu con i tuoi stessi occhi punto numero 2 non affittiamo in realtà solo ai turisti di solito le persone collegano Airbnb affitti brevi e al turista sbagliato c'è chi viaggia per lavoro quindi anche italiani stessi c'è chi viaggia per questioni di salute magari un ospedale nelle vicinanze uno specialista particolare c'è chi viaggia per passioni per lo yoga per il mountain bike ritiri spirituali chi più ne ha più ne metta o anche finiamo per affittare magari ad aziende che stanno facendo dei lavori di ristrutturazione devono ospitare gli operai o devono ospitare gli stagionali ed ecco che ovviamente vengono a prenotare i nostri immobili mi è capitato spessissimo in zona Riccione di ospitare magari delle persone che dovevano fare dei lavori di ristrutturazione in degli immobili in bianchini eccetera 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 d'inverno tra l'altro quindi poi qua si apre un altro capitolo importantissimo di anche nelle zone dove uno può pensare che si guadagni solo d'estate in realtà si guadagna molto bene anche d'inverno proprio perché vengono persone per i congressi perché devono fare i lavori quindi io Riccione d'inverno affitto agli operai e guadagno paccate di soldi dunque le motivazioni per le quali una persona può venire a soggiornare nei nostri immobili sono potenzialmente infinite a noi non interessa il perché ci interessa che paghino e sganci al contrario di altri business dove devi impazzire per trovare un cliente e magari se lavori su una nicchia specifica quel cliente ti paga una volta e non lo vedi mai più mentre noi abbiamo persone che potenzialmente con una prenotazione ci coprono anche un mese mesi un anno ma anche nella peggiore dell'ipotesi ci basta avere 30 notti prenotate tu hai riempito il mese e ti sei assicurato un ottimo incasso di norma da un immobile si guadagna in media come property manager o sublocatario 1000 euro un immobile 1000 euro 10 immobili 10.000 euro ovvio che se prendi in gestione o in sublocazione una villa non guadagni 1000 euro al mese ma ne guadagni molti di più però sto parlando di una casistica base applicabile bene o male a chiunque sta guardando questo video che è anche un po' il minimo garantito cioè tu quando entri in questo business di norma ambisci a guadagnare almeno 1000 euro di immobile poi ovviamente scalando puoi arrivare a guadagnare molto di più per singolo immobile dunque se nella tua zona ci sono musei ospedali, ristoranti, strutture ricettive già esistenti eccetera 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 fabbriche, grosse aziende e quant'altro sappi che sicuramente ci sono delle persone che vengono lì per quel motivo anche un semplice ristorante magari molto famoso o stellato beh, quello è un ottimo motivo per il quale la gente verrà e magari siccome beve due bicchieri di vino da qualche parte dovrà pur dormire e ovviamente sceglierà te per non parlare poi di stazioni di treni, aeroporti, porti stessi per le navi eccetera 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 cioè l'imbarazzo della scelta l'importante è sapere ovviamente come approcciare questo mercato per evitare di perdere tempo e denaro ed ecco perché per concludere il video ti ricordo ancora una volta che trovi un sacco di materiale gratuito oltre che all'interno di questo stesso canale nei link che trovi qua in descrizione infatti per avere successo in questo business per diventare come me o come le centinaia di interviste di successo che abbiamo fatto non basta dire dai mi butto lì prendo una casa e vediamo come va no, bisogna fare le cose con un certo metodo per essere sicuri e avere la garanzia di guadagnare e soprattutto per evitare di buttare tempo e denaro ecco perché ancora una volta ti consiglio di leggere i link che trovi qua in basso di studiare attentamente tutti i contenuti gratuiti che abbiamo e di prenotare una consulenza con il nostro team per capire se nella tua zona c'è mercato o meno infatti il mio team sarà ben contento di fare una ricerca di mercato in questa consulenza per te gratuitamente al fine di agevolare la tua entrata all'interno del business degli affitti brevi la ricerca di mercato in sé per sé non basta ovvero non è che fai la ricerca di mercato e diventi ricco quella ti aiuta a capire se c'è mercato dopodiché ovviamente ti puoi formare, studiare e avviare in maniera seria il tuo business di affitti brevi anche senza partita iva in maniera 100% legale ed unirti alla nostra community che conta oltre 4.000 studenti per questo video è tutto io ti auguro un super in bocca al lupo da Ludovico Cianchetta Vasquez fondatore di B&B Academy è tutto ricordati di iscriverti al canale e mettere un bel mi piace ciao ciao